Calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore. Rocca San Giovanni reclama ma il rigore c'era, è stato atterrato Leonardo Campitelli. Ecco l'arbitro irremovibile, scusate l'emozione, si entra a sto pallone, è il 2-0. Ecco l'arbitro che fa rispettare. Sul dischetto il nostro numero 4. Ah, parato dal sportiere.